Tragedia sul lavoro questa mattina in zona industriale a Vicenza. Un operaio di 47 anni è morto precipitando violentemente al suolo. Inutili soccorsi subito allertati dai colleghi dell'uomo, i sanitari del SUEM non hanno potuto far altro che constatare il decesso a seguito dei numerosi politraumatismi riportati. È accaduto poco dopo le 10. L'operaio stava lavorando per conto di una ditta esterna rispetto all'azienda in cui è avvenuto il drammatico incidente. Una società che produce e commercializza resine impermeabilizzanti e prodotti chimici per fonderia con gli stabilimenti in viale della scienza. Per causa in costo di accertamento da parte dei tecnici dello Spisa, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di 15 metri. Sul posto anche i carabinieri di Vicenza.